Buongiorno, buongiorno a tutti cari amici e cari amiche e bentornati sul mio canale. Come state? Come avete iniziato questo nuovo anno, questi primi 11 giorni? Io tutto bene, devo dire che il fatto di aver fatto pulizia nella mia camera hobby mi ha dato una spinta pazzesca, nel senso che ha messo ordine anche in tante altre cose che avevo fuori posto e mi ha fatto ricominciare bene. Innanzitutto sono rientrata al lavoro e il riscaldamento funzionava, quindi per fortuna ho pensato male e di questo mi pinto amaramente, ma per fortuna perché lavorare in un luogo confortivole ti fa lavorare meglio. Spero che se ne siano accorti. Video di oggi, video finiti di tutti i detersivi dell'ultimo periodo, saranno due mesi. Ho consumato tantissimi detersivi per la lavatrice, sto lavando tantissimo, ammorbidenti anche, tantissime cose e tante sono state davvero delle scoperte favolose. Ma possiamo partire? Sì, sono un po' confusa. Se mi vedete con gli occhiali fumè, non sono occhiali da sole, o meglio sono occhiali da vista che fanno anche da occhiali da sole, ma la luce che c'è in questa camera è talmente forte che ho dovuto chiudere le griglie di una finestra qui alla mia destra. In più ci ho dovuto mettere su anche un cartone perché entrava troppa luce e avevo dei colori un po' da... madonna assunta in cielo. Ma iniziamo, iniziamo perché abbiamo un sacco di cose da vedere. Di qui ho la borsa piena e di qui ho la borsa vuota. Questo è uno dei video che mi piace di più come Infinity Beauty perché mi rammento le cose che mi sono piaciute e quelle invece che sicuramente non ricomprerò più e mi piace anche vederli. Allora, detersivo per la lavatrice, per i colori neri o scuri, questo della Soft, liquid gel e lavatrice, sì, un detersivo normale. Profumato, in gel, il gel era quasi trasparente, era un grigio ma molto molto leggero, tanto che mi sono chiesta se è necessario usare dei detersivi appositi per la biancheria scura o la biancheria nera, biancheria vestiti in generale. Perché mi sono accorta che comunque anche con i detersivi in gel, sia quelli per i colorati che quelli per i bianchi, non trovo la differenza. Forse ai tempi mi capitava quando usavo la polvere anche per gli scuri perché poi mi rimanevano dei residui di detersivo sui capi. Non so se le lavatrici sono diventate più potenti, io generalmente per i capi scuri, per i capi colorati, non uso più la polvere ma uso il detersivo in gel, il detersivo liquido. E non so, fatemi sapere voi se, io non sono un'esperta, li ho sempre comprati perché avevo magari l'impressione che, c'è avevo l'impressione, pensavo che magari i colori fossero più vividi, i neri rimanessero più neri, però non è che ho trovato sta grossissima differenza. Quindi fatemi sapere se voi usate un detersivo specifico per i capi neri, per i capi colorati, io per i bianchi uso esclusivamente la polvere, per i capi colorati, la lana, per lo sport e i neri uso il detersivo gel. Per i neri, generalmente, utilizzo un detersivo apposito, però quasi quasi. Questo, io non ho trovato molta differenza, ecco. Poi devo dire che i detersivi della soft non è che mi piacciono proprio tantissimo. Un detersivo che invece mi è piaciuto tantissimissimissimo e che sicuramente quando ritorno alla Lidl, perché mi pare che l'ho preso lì, lo ricomprerò, è questo, il Formil. Io avevo comprato in questa confezione da ricarica, penso, non lo so, io l'ho usato proprio da qui, non ho ricaricato un bel niente. E devo dire che mi è piaciuto molto, ho avuto l'impressione che i capi colorati, i capi sportivi, per il quale l'ho utilizzato, avessero quasi un profumo di pulito sì, ma anche quasi di disinfettato, ma non un disinfettante che mi dava fastidio. Avevo questa impressione, mi è piaciuto tantissimo e noto che avevo scritto il prezzo, 2,99 euro, nei miei primi viaggi alla Lidl, non ci vado spessissimo, devo dirvi la verità, perché tutte le cose belle che ci sono alla Lidl, le novità e così da me finiscono subito, quindi io non ho voglia di fare la corsa dietro ai saponi di Natale, dietro ai profumi, se vado che lo trovo e che lo posso comprare, lo compro, altrimenti lascio perdere. Questa però mi pare che sia una linea che ci sia sempre, quindi sicuramente quando andrò a fare la spesa la prossima volta alla Lidl, lo ricomprerò, perché mi è piaciuto tantissimo. Altri detersivi che per me sono un top, e ho visto che ci sono anche da acqua e sapone, mi pare che ne ho addirittura tre, esatto, ve li faccio vedere tutti e tre insieme, uno, uno, due, uno, tre, sono questi della Dual, uno è Dual Power Relax, alla fragranza fresca, l'altro è lavatrice colorati, colori brillanti, elimina odori, sempre della Dual, e l'altro è il Dual Power Allargan, questo aveva un profumo, e i capi uscivano profumatissimi, ma veramente tanto tanto profumati, di buono, ma proprio di buono, tant'è che la collega di Mattia, quando lavo le sue divise, il cappellino, il grembiule, con questi sente il profumo diverso, ma si sente veramente tanto, è proprio tanto 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 buono, tutti e tre. io questi li avevo comprati su uno store, di cui non dirò il nome, perché non voglio fare una polemica, e mi ero trovata benissimo, ho fatto poi un nuovo ordine a Natale, non mi hanno mai spedito la merce, non mi hanno risposto alle mail, per fortuna ho chiesto un rimborso, perché io pago sempre con Paypal, e ho avuto il rimborso, però ho trovato molto scorretto il comportamento di questa azienda, e ho visto però l'ultima volta che sono andata a fare la spesa da Acqua e Sapone, che questo c'era, se non ricordo male, e anche questo, c'è quasi tutta la linea di questi detersivi, quindi la prossima volta andrò a comprarli lì, li avevo comprati su questo sito, perché avevano un prezzo davvero conveniente, mentre su Top Store Cardarelli, li avevo trovati che erano leggermente superiori, ma tra la gentilezza, la professionalità, e la tempestività nel darmi le risposte di Top Store Cardarelli, non ce n'è, quindi a questo punto, la prossima volta, se non li trovo da nessuna parte, e se li voglio ricomprare, sicuramente Top Store Cardarelli, perché è davvero il top, sia per la serietà, e poi comunque per la tantissima scelta che ha, faccio un po' fatica perché c'è un catalogo online su Whatsapp, che è un po' difficoltoso da consultare, però se sono di buzzo buono, sicuramente li ricompro, perché sono veramente, veramente ottimi, 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 io questi ve li consiglio, costavano 2 euro e qualcosa, quando li ho comprati l'ultima volta, adesso magari saranno aumentati, perché è aumentato tutto, 1, 1, 2, e 1, 3, tutti, tutti ottimi, questa marca mi piace tanto, lo so che voi mi direte, ma guarda che la trovi anche all'MD, guarda che la trovi all'Eurospin, no, nel mio MD, nel mio Eurospin, non ci sono, non ci sono, qui a Lecco non ci sono, poi, 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 allora, due detergenti che mi hanno salvato la vita in bagno, aspettate che circo l'altro, non mi vedete più, l'altro, 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 ce la bevi, eccolo qua, allora, li ho provati tutti e due, Vicinet, Profumoso Gel, protezione anticalcare al lime, e Ace Vc Gel disincrostante, top, numero uno in assoluto, in assoluto, buono anche questo, allora, eh, vi dico che mi hanno salvato la vita, perché, eh, mi aiutano a tenere il bagno molto, molto più pulito, io non sono una che non lava il bagno, ma, ehm, se, eh, faccio la mia pulizia, eh, un generale, bella, a fondo, una volta alla settimana, mi piace anche passarlo tutti i giorni, eh, tirando via il calcare, eh, insomma, sia dai lavelli, dai lavandini, che dal vicino, e devo dire che questo, io lo passo un giorno sì, un giorno no, proprio sotto, così, questo lo passo una volta alla settimana, questo vi tira via anche l'asse del gabinetto, veramente, è una potenza micidiale, è per me buonissimo, e non ho più quelle righe antipatiche che ogni tanto, eh, si formano per il calcare, mh, non mi si forma più, il calcare, quando c'è l'acqua che scende sulla strisciolina dell'acqua, a me non si forma più, ed è ottimo, ottimo, questi due in combo sono perfetti, con, con, l'aggiunta, e anche qua, mi sposto un attimo, perché non riuscivo a prepararli, perché il tavolo della sala hobby è piccoli, ecco qua, con l'aggiunta di questo, d'anti-vc, power drops al limone, è una confezione da due, l'ho presa all'MD, questa mi pare, poi voi mi correggerete, e devo dire, previene il calcare, sono delle tavolette, se riuscite a vedere, hanno quattro, una, due, tre, cinque confezioni di tavolette anticalcare, sono molto grandi, durano tantissimo, vi durano quasi due mesi, una tavoletta, e, anche questo, fa una bella schiumetta, e aiuta a tenere il bc pulito, questo non vuol dire, che il bc non lo dovete lavare, ma che vi aiuta, se come me, non siete amanti, di fare sempre le pulizie, ottimo, poi, di questi, vi porto solo un esemplare, e un esemplare, perché ne ho finiti in totale, sei, e vi dirò, che, a parte che anche questo è aumentato, questo costava molto meno, adesso è aumentato, certo, non è il prezzo del finish, che a prezzo pieno, costa forse sui, cinque euro, se non cinque, quasi, ma mi trovo bene con entrambi, quindi, se trovo in offerta questo, lo compro, perché mi piace tanto, adesso ne ho in uso un altro, che ho trovato in offerta, acqua e sapone, ed è, non me lo ricordo più, Fairey, Fairey liquido, tre in uno, anche quello, è la prima volta che lo provo, mi piace, molto molto profumato, lascia la, la vastoviglia molto profumata, e questi però, sono buoni entrambi, certo, questo costa un bel pezzo meno, e, quando posso, lo prendo, questo invece, quando è solo in offerta, però, anche il prodotto della Conard, devo dire che è ottimo, poi, allora, ho preso questo, ehm, deodorante, per la lavastoviglie, eh, l'ho comprato su un ordine online, del DM, qui dice che dura per 60 lavaggi, molto di più per me, è durato quasi due mesi, tenete conto che io, eh, faccio, due, tre lavastoviglie al giorno, perché, cucino tanto, perché uso tante pentole, uso tante, stoviglie, e, e devo dire che questo mi è durato quasi due mesi, se non, se non di più, quindi, ottimo, costa una stupidata, e, una profumazione menta e limone, molto buona, molto fresca, eh, non, finta, anche se, ovviamente, sarà sicuramente una profumazione sintetica, però, è davvero ottimo, ne ho in scorta altri due o tre, buono, buono, buono. Passiamo ora, A, Ajax Shower Power, e Ace Bagno Brillante, questi, allora, eh, Ace mi piace, e ho scelto questa tipologia, perché, non profuma tanto di candelgina, a me il profumo di candelgina, fa venire il mal di testa, quindi, eh, generalmente non utilizzo, dei, detergenti che abbiano all'interno della candelgina, perché mi dà proprio, mi dà proprio fastidio, eh, però ricerco sempre, eh, io questi li tengo indistintamente per i lavelli, eh, della, cioè, per il bagno, per la pulizia del bagno, che per l'acciaio della, della cucina, perché, mi piace pulirlo, togliere le macchie, magari, dell'acqua, delle goccioline, oltre che dell'unto, questi sono davvero molto buoni, questo, se non ricordo mai, uno dei due aveva un profumo che mi piaceva tantissimo, proviamo a sentire, no, non è questo, e allora è questo, esatto, ha un profumo, delicato, la candelgina non si sente, pulisce perfettamente, il bagno e la cucina, e anche questo, uguale, della Ajax, adesso ne sto finendo altri due, ho finito anche tanti Chantecler, ma non ve li faccio vedere, perché quelli, mh, insomma, sono sempre quelli, sono sempre buoni, ho trovato però un prodotto, che secondo me, è migliore del Chantecler, e questi li mettiamo via nel nostro sacco di pavone, poi, 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 ho finito, un detersivo, per i piatti giganterno, da un litro e mezzo, per una che non lava i piatti, devo dire, che sono stata molto brava, adesso però, sono anche molto più brava, perché non lascio più le stoviglie, che non rientrano nella lavastoviglie, ma le lavo subito a mano, che così mi rimane tutto subito in ordine, è vero che io, una volta che faccio la lavastoviglie, la svuoto, e metto dentro quello che ho nel lavello, ma, adesso, ho fatto il proposito, di lavare anche le cose che rimangono lì, e quindi, sto utilizzando un po' di più, i detersivi per i piatti, questo, diciamo che ha fatto il suo lavoro, era profumato il giusto, si, profuma proprio di, di limone, ha un profumo, non mi ricordo, più, c'era un detergente, che usava la mia mamma, tanti anni fa, e ha questo profumo, ma non mi ricordo più che cosa fosse, adesso ne sto usando uno della Dual, che avevo sempre comprato, nell'acquisto di quell'azienda, che vi ho detto, buonissimo, ha il melograno, è strepitoso, mi viene voglia di lavare i piatti, solo per il profumo del detergente, sepe, vabbè, comunque, abbiamo finito anche questo, Dexta, Dexal, Dexal, giusto, Dexal, Eurospin, MD, comunque, in uno di quei negozi, due, champs, ciao, due, saponi mani, top, 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 questo ve l'avevo fatto vedere, che non svuota la spesa di tanti mesi fa, l'avevo comprato al Tigotà, c'è uno scaffale con i prodotti di questa nuova, nuovo brand che io prima non l'avevo mai visto, limone e verbena, è un detergente mani delicatissimo, molto, molto, molto concentrato, molto denso, ne basta veramente un pump, mi è piaciuto tantissimo, il profumo era molto delicato, e sono sicura che quando ho finito un po' di scorte, andrò a provare anche gli altri prodotti, ci sono detersivi, i vari additivi, detersivo per i piatti, detergente intimo, mi pare, e questo è spettacolare, 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 buonissimo, davvero, e un altro detergente mani, che ho trovato favoloso, e anche qua mi continuavo a lavar le mani, buonissimo, questo che avevo comprato tantissimo tempo fa, ma proprio tantissimo, forse era una delle prime volte che facevo gli svuota la spesa, dell'Eurospin, l'avevo trovato all'Eurospin, in quelle pochissime volte in cui trovo le novità, di saponerie siciliane, mamma, io quasi quasi, dal profumo che avevo, vi lascio alle mani profumatissime, mi veniva voglia di usarlo come bagnoschiuma, è veramente fantastico, fico d'India, e pomeglia bianca, ma ragazzi, buonissimo, 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 questi li ho utilizzati, uno nel bagnetto di servizio, e uno in cucina, lavavo le mani ogni tre per due, adesso ne ho uno ancora di saponerie siciliane in cucina, e ne ho uno di Bath & Booth Works, mi pare che si dica così, buonissimo, buonissimo, ha un profumo, anche lì, mi pare anguria, e qualche altra cosa, e anche lì sta finendo presto, quindi li vedrete, buonissimi profumi mani, questi saponi mani, sono stati veramente, un'ottima scoperta, poi vediamo, abbiamo tutti ammorbidenti, perché ne ho usati una caterva, finiti questi fogli, attira colore di Home Circus, io con questi, mi trovo sempre bene, ma con qualsiasi tipologia, di questi foglietti, soprattutto a basso costo, fanno il loro lavoro, quando, allora io, cerco sempre di fare le lavatrici, solo bianco, ma veramente solo bianco, cioè tutto bianco, il colorato, però che ne so, le tipologie che si assomigliano, arancioncino, rossino, giallino verso l'arancione, poi faccio tutti i blu, cioè cerco di dividere, comunque come tipologia di colore, non mi piace, non lo faccio mai, che ne so, il rosso con il blu, con il bianco, il giallo, anche se ci metto il cattura colore, li divido comunque per colore, un po' una mia fissa, ma devo dire che quando poi tolgo, chiaramente il foglietto, il foglietto è colorato, quindi fa il suo lavoro, ottimi anche questi. Adesso vediamo, un po', ammorbidenti, che non mi sono piaciuti, uno, due, ah poi non vi ho fatto vedere, il top dei top, ma dopo vi faccio vedere, ammorbidenti, che non mi sono piaciuti, eccoli qua, allora, per cambiare un po', per capire se, ero sempre in fissa, con il mio Lenore, con il mio, come si chiama, quell'altro che mi piace tanto, che adesso non mi viene più, ho provato, Chanteclery concentrati, di concentrato, c'ha solo il nome, perché dentro, non c'è nulla di concentrato, per me, concentrato, probabilmente sbaglio io, io, associo, la parola concentrato, al fatto che, il, l'amorbidente sia denso, questo era, acqua pura, non mi è piaciuto, profumazione, buona da qui, ma sui capi, non la sentivo, e quindi, di Chanteclery, mi spiace, non ti comprerò più, qui la profumazione, è veramente buonissima, ma sui capi, non rimaneva niente, sui miei, quindi, questi li ho comprati, quando c'era un, un'offerta, al, al Tigotat, perché poi, questi li prendo sempre, anche di scorta, ma non mi sono piaciuti, come, questo è un, densità media, il profumo, si sente, sulla biancheria, non particolarmente, quindi poi, io andavo di aggiunta, dei miei profumatori, questo si sentiva, un po' di più, che è, eh, pa 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 pa, concentrato, profumo, da indossare, soffio di oriente, si vabbè, molto meglio quegli altri, e quindi, anche se sono in offerta, sinceramente, se poi non sono contenta, e non mi piaccio, non so neanche, nulla, quindi questo è un ni, questo è, un no, a me questi, non mi piacciono, non mi dicono, cioè non mi piacciono, non che non sono buoni, non mi dicono niente, mi sembra che non profumino, e poi è vero che non è quella, la funzione particolare, della morbidità, questo era quello che vi dicevo, allora, questi sono, lo sgrassatore, tipo, lo Chanteclair della Conad, e di questi, noi li usiamo, a svalangate, sui colletti delle camicie, per togliere le macchie, per la cucina, qui, in ogni dove, c'è lo, simil Chanteclair della Conad, Mentre quello che secondo me è il top, ed è il numero uno, e quali vorrei ricomprare, perché li avevo sempre comprati in quello store, che poi mi ha, trattato male, ecco, diciamo così, però so che c'è anche da, top store, Caldarelli, 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 non mi ricordo mai, e questo è ottimo, smacchia benissimo, toglie le macchie di unto, senza neanche sfregarle, io lo utilizzo, questo lo utilizzo solo ed esclusivamente, sui capi da biancheria, ma è perfetto, buonissimo, mi è piaciuto tantissimo, e sicuramente, lo ricomprerò, Alba, il sapone multiuso, ricorda molto, il sapone famoso, Alga, ma è veramente, buono, 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 questo è da ricomprare, adesso lo lascio qua, perché sono a cade tutto, finiamo, finiamo, sì, ok, finiamo con gli ammorbidenti top, poi abbiamo l'ultima cosa, come ammorbidenti top, vabbè, ve ne faccio vedere un po', ma ci sono tutti questi, che avevo finito, che avevo sempre comprato lì, perché costavano di meno, ho visto che i prezzi di adesso, questi sono veramente piccinini, 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 Lenore Elisir, Sonio di Calabria, spettacolare, questi vi lasciano i capi morbidi, profumatissimi, peccato, che costano l'occhio della testa, costano veramente tanto, sono 25 lavaggi, ma a me non mi durano 25 lavaggi, perché la mia lavatrice è da 9 chili, 8 chili, non mi ricordo più, sono 525 ml, sono sopra i 3 euro, ecco, anche no, però, però, hanno il loro perché, Sonio di Sicilia, è buonissimo, cioè, sono veramente, buonissimi, su questi, non c'è nulla da dire, ah ecco, l'altro ammorbidente che piace tanto, anche a me è fabuloso, anche quello mi piace tanto, Sonio di Sardegna, e niente, cosa ve lo dico a fare, sono buoni, sono buoni, sono buoni, costano troppo, costano troppo, altro però, che mi ha, l'ho riscoperto, non usavo il coccolino da un bel po' di tempo, l'ho riscoperto, e devo dire che sono buonissimi, tutti e due, adesso ho comprato la taglia più grande, nell'ultimo acquisto, buoni, densi, profumano, fanno il loro lavoro, quindi, quasi quasi, sono al pari della Lenore, forse costano un pochino meno, quindi questi, magari ogni tanto, possiamo prenderci lo sfizio, mentre, questo l'avevo proprio comprato, da Top Store Cardarelli, buonissimo, buonissimo, questi qui costavano poco, ed erano ottimi, 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 densi, la profumazione esagerata per me, esagerata, e questi li avevo visti, li avevo scoperti, proprio a grazie alla mia amica, Ilenia, chissà se l'ho detto giusto questa volta, Ilenia, sì, perché la confondevo sempre con Ileana, ma mi pare che sia Ilenia, e, dopo vi metto il canale, devo dire che sono veramente, veramente, buonissimi, buoni, 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 ottimi, e questo lo ricomprerò, sicuramente, farò un bello ordinino, ultimi due, questo è un profumatore, che avevo finito, sapeva di lavanda, l'avevo comprato al Tigotà, sono quelli che, sono simili agli originali, per la ricarica di, come si chiama, non, 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 l'altro profumatore famosissimo, vanno bene anche nella, in quel profumatore lì, io stacco sempre, il pirolino, che alcune volte è diverso, con quello originale, glielo metto su, e va, adesso, non li sto più usando, perché, in inverno, uso tanto le candele, e i profumatori, d'ambiente, quelli liquidi, ne ho scoperti ragazzi, poi ve lo farò vedere, pazzesco, ce n'è uno che profuma, devo addirittura, cambiare postazione, perché la camera, è troppo profumata, io ho la camera, poi ho un'anticamera, molto grande, che sarebbe come un'altra camera, e vi giuro, che mi profuma, anticamera, scale, camera, e ogni tanto lo sposto, perché l'ho scoperto, dal mio parrucchiere, poi ve li farò vedere, comunque, questi sì, sono buoni, questo sentiva proprio di lavanda, lavanda pura, buono, e ultimo, il detersivo, per i pavimenti, felce azzurra, classico, questo ha una buona profumazione, io, proprio perché ho in giro gli animali, il gatto, e il cane, mischio sempre il detergente, con una buona dose, di candeggina delicata, che non profuma di candeggina, ma così, per disinfettare, oppure con un po' di lisoforma, perché l'odore dell'isoforma, è un po' fortino, non mi piace, quindi, un detergente, profumato, con un disinfettante, perché con il gatto e il cane, ciao, e questo sì, buono, mi è piaciuto, aveva un buon profumo, poi mischiato con la candeggina delicata, andava bene, disinfettava, puliva, quindi ottimo, pavimenti sempre puliti, oh, ho finito, pensavo di metterci di più, e io invece, ci ho messo di meno, ebbene, avete visto tutta la mia scorta, di detersivi finiti, esauriti, adesso, sono andata, due settimane fa, a fare la spesa con Paolo, da acqua e sapone, che quasi quasi mi sviene, perché, c'erano i detersivi, il Dasha, in offerta, in polvere, il Dixan, in offerta, quindi, vabbè, ho preso un po' di scorte, perché, vabbè, sono in offerta, quantomeno non me le lascio scappare, qualche ammorbidente, insomma, un po' di, un po' di robe, e quando è arrivato allo scontrino, lui mi ha guardato, mi ha detto, ma era veramente necessario, comprare tutti questi detergenti? Sì, era necessario, perché, si pulisce, si pulisce, anche se non sono una patita, nel senso che non sono una che diventa matta, però, insomma, le cose basiche, e la casa in ordine, la casa in ordine è una parola grossa, questa camera in ordine adesso, mi piace così tanto stare qua, proprio mi rilassa, mi piace, è stata una pulizia anche mia mentale, è stato proprio, un passo che andava fatto, e ne sono molto, molto contenta. Nulla, io ho finito, spero la prossima volta di farvi il video dei profumi finiti, perché mi sono accorta che adesso ne ho veramente tanti, quindi magari li divido in due, perché poi stare lì a descriverveli, è vero che ve li descrivo velocemente, perché alcuni li avete già visti, e non vi dico i profumi nuovi che ho trovato, ho trovato una chicca, ho trovato una chicca, sistemando, ho trovato un profumo di Lagerfield, Carl Lagerfield, donna, vecchio, vecchio come profumo, un profumo vintage, veramente vintage, è uscito nel 1986, secondo me a me l'hanno regalato, quando avevo 20 anni, 1990, vi dico che è veramente originale vecchio, perché non ha lo spruzzatore, ha ancora il dosatore, che ce lo si mette, lo si spalma, il profumo a mio parere è rimasto intatto, ho guardato su vintage, a quanto lo vengono, 280-300 euro, ho un profumo vintage di nicchia, ve lo farò vedere in un prossimo video, adesso lo sto provando, mi piace molto, un profumo molto elegante, però è stata una bella scoperta, vedere questa rarità uscire dai miei armadi, gli altri che ho non sono così vecchi, però diciamo che ho una buona scorta di profumi, ancora da provare e da testare, le idee sono tante, le cose da fare sono tante, le cose che vorrei fare sono tante, ma anche le cose da fare sono tante, quindi dobbiamo giocarcela un po' con il tempo che abbiamo, nulla, non mi dilungo più, vi saluto, vi ringrazio come sempre per essere arrivati fin qua, se ci siete arrivati, vi ringrazio per il vostro affetto, per tutte le iscrizioni, per i pollici in su, per i pollici in giù, ma ringraziamo per tutti, perché noi siamo persone gentili, la gentilezza non fa mai male, anzi a volte spiazza, e che dirvi, vi abbraccio, vi mando un grosso bacione, e a prestissimo, lo spero, lo spero tanto. Ah, mi dimenticavo, la mia mamma ieri ha fatto la cardioversione, che è quell'operazione detta in quattro parole, dove ti fermano il cuore, e lo fanno ripartire, con delle scariche elettriche, sembra che sia andato tutto bene, il ritmo cardiaco si è stabilizzato, praticamente resettano il cuore, e pensate voi che cose riescono a fare oggi, pazzesca sta roba, a livello ambulatoriale, proprio lì su un lettino, ti addormentano un attimo, ti mettono delle placchette, ti danno due scarichette elettriche, zam, il cuore si ferma, e si spera che riparta, perché la mia paura era anche un po' quella lì, sembra che sia andato tutto bene, appunto l'aritmia è sparita al momento, dobbiamo fare poi dei controlli, ma incrociamo le dita, incrociamo le dita che tutto prosegua bene, quindi io sono anche un attimino un po' più rilassata, tra virgolette, e oggi ho deciso di rilassarmi ancora di più, stando in vostra compagnia, basta, non dico più niente, vi abbraccio, vi saluto, e vi do appuntamento ad un prossimo video, buona continuazione di settimana, ciao!